Ciao a tutti, la ricetta di questa settimana Triglia Livornese, una ricetta semplice, veloce, pochi ingredienti, ma gustosissima. Ingredienti, triglie, polpa di pomodoro, prezzemolo, aglio, olio, sale, vino rosso e crostini di pane toscano. La preparazione, partiamo dai filetti di triglia, prendiamo le triglie, le visceriamo, neviamo le squame e tutte le spine. In una casseruola a fuoco vivo prepariamo un soffritto con prezzemolo, olio e aglio tritati. Sfumiamo con il vino rosso, aggiungiamo il pomodoro, abbassiamo la fiamma e facciamo cuocere per circa 5 minuti, regolando chiaramente il sale e pietre. In un'altra padella a fiamma vivace cuociamo da entrambi i lati i filetti di triglia. Nella stessa padella i trostini di pane da tutti i lati, rodolati per bene. Assembliamo il piatto. E adesso a voi, energia in cucina.